Se Feltre aveva resistito, Alleghe e Pieve di Cadore avevano alzato bandiera bianca di fronte al caro Bollette chiudendo i rispettivi palaghiaccio. Il miglioramento della situazione ha permesso prima la riapertura dell'impianto di Tai di Cadore ed ora quello di Alleghe dove milita anche la storica formazione di Oche e Sughiaccio. Allora fu una decisione che non poteva essere rinviata perché i costi dell'energia elettrica necessaria per tenere in piedi lo stadio erano esorbitanti, non si avevano prospettive per il futuro. Abbiamo verificato anche le ultime tariffe che sono state applicate in ottobre, abbiamo fatto una proiezione lavorando sul bilancio vedendo di recuperare quello che si poteva recuperare e siamo arrivati alla decisione della riapertura. Far fronte ai rincari energetici costerà alla amministrazione comunale almeno 100.000 euro in più, non pochi per un bilancio come quello di Alleghe che è di appena 2 milioni di euro. La struttura, che ospita anche il pattinaggio artistico, è il cuore della comunità ed è fondamentale soprattutto per i giovani. Restituirne l'uso ai cittadini della vallata è stato sentito come un dovere sociale. Se guardiamo l'attività dei ragazzi deve essere aperto fino alla fine della stagione che è fine marzo, dopodiché come ogni anno verrà chiuso. È quello che auspico di poterlo portare a un'apertura dei quattro mesi.